A partire dal fine settimana scorso l'entrata in vigore dell'emendamento collegato al decreto coesione ha semplificato il problema della carenza di parcheggi estivi, soprattutto per i due comuni salentini di Otranto e Gallipoli, le cui località balneari, complici anche alle alte temperature di questi giorni, sono state prese d'assalto da turisti e residenti. La legge di conversione del 4 luglio 2024 ha infatti permesso di aprire i parcheggi che erano già pronti fino ad un massimo di 500 posti auto, i quali possono entrare in funzione semplicemente provvedendo alla segnalazione certificata di inizio attività. Per i parcheggi in questione infatti sono state sospese le procedure di valutazione ambientale e non sono soggetti ad autorizzazione paesagistica disposta dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali. Si tratta comunque di autorizzazioni temporanee che permettono l'uso solo per il periodo estivo delle aree destinate ad essere immediatamente rimosse entro 180 giorni nell'emore dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile o degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi. Al di là delle soluzioni temporanee che sembrano comunque aver regalato ai turisti un fine settimana di mare all'insegna dell'ordine della sicurezza in termini di viabilità, i comuni di Otranto e Gallipoli fanno sapere sono al lavoro per garantire piani di mobilità alternativi e per trovare una soluzione più incisiva e definitiva. Intanto la situazione sembra temporaneamente risolversi.